Sì è vero che abbiamo vinto la prima partita, però quello risultato non ha importanza, la partita sempre inizia 0-0, dobbiamo dimostrare che siamo più forti, loro hanno il loro stile di gioco e noi abbiamo il nostro, sempre parte della difesa, cerchiamo di vincere. Sì forse la partita più importante è che abbiamo a fine capodanno, il primo posto cambia tanto rispetto al secondo, sappiamo che sarà una partita tost e cerchiamo di vincere. Punto di forza dell'Ujug, sempre hanno i grandi tiratori, hanno due centri forti, cercano di portare sempre il pressing in alto, dobbiamo essere pronti, come sempre parte della difesa. Sì c'è sempre un bel pubblico a Chiavari, le tribune sono sempre pieni, cerchiamo e vogliamo dare loro un'altra vittoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.